Signori e signori, Giorgio Magri! Buonasera, come va? Mi presento, sono Giorgio Magri e non ho un incrocio tra Super Mario e la Statua della Libertà. Come va? Siete caldi? Scusate il fiatone, ho fatto una corsa, ho dimenticato di pettinare i capelli. A momenti entravo in scena con i capelli come uno scema invece come Adolf Hitler. Di solito inizio con un paio di battutine di warm up per sondare un po' il terreno in sala. Sai roba tipo non vado ai funerali perché non ricambiano mai? Quando si arrabbiano i sommelier sono cazzi amari con note di nocciola e un ritorno fruttato. Vicino a Como c'è un paese che si chiama Erba, gli abitanti si chiamano ZIO! C'hai le Pringles? Messico 120 ettari coltivati a marijuana, l'uomo del monte ha detto ZIO! Ah no minchia era la battuta di prima! Com'è siete caldi? Facciamo un applausino del fatigante? Io mi presento, sono Giorgio Magri e non Chef Rubio seccato al sole, buonasera! Sono un comico, è un comedian, parola francese pronunciata all'inglese significa povero. Fare il comico è come il rock'n'roll però senza topa. Hai presente il chitarrista dei Maneschi? La mattina mi sveglio di pomeriggio, fumo un bel torcione di Maria. Io fumo tante di quelle canne che adesso non mi ricordo come finisce questa battuta. Io a casa mia ho raggiunto un livello di tristezza e di mestizia tale che mi scrivo le battute direttamente sul muro. Livello disagio Alda Merini, gli zoccoli del dottor Scholz. Pensa a quelli che arriveranno dopo di me, si siederanno sul cesso e sul muro e troveranno scritto sbarca in Italia la prima fiction cinese e si rompe alla terza puntata. Perché a casa mia vale la regola, le cose fanno schifo solo se qualcuno ti vede farle. Sai come quelli che si scapperano al semaforo, hai presente? Io sono una specie di fantozzi 2.0. Io esco in scena, vi rovescio addosso i vostri fallimenti, attraverso il mio disagio e lo faccio grazie alla mia diarrea verbale, la mia sindrome di Turetta. Infatti quando mi chiedono un parere su qualcosa, di solito rispondo sei sicuro che chiedere a me sia una buona idea? Sento la voce fuori campo di fantozzi che dice stava per rispondere sinceramente quando gli apparve San Pietro sulla traversa. Solo la mia vita è seguita da 40 anni dalla voce fuori campo di fantozzi, normale no? Tutti quanti? La mattina vado al bar, bevo il caffè e sento 3.000 gradi fallimenti! Era il tamutissimo caffè della signora Ling Ling. Sì, a quarto giro. Pensa che una volta la voce fuori campo di fantozzi mi ha detto che sono schizofrenico. No, scherzavo, me l'ha detto il dottore. Triplo filotto reale ritornato con pallino! No, scherzavo, non sono schizofrenico, non mi hanno mai diagnosticato niente, non pensate male di me. Scherzo su queste cose proprio perché sono una merda. È colpa vostra, voi siete la società, io sono il prodotto. Bello sto trucchetto, provateci anche voi. Domani andate in ufficio dal collega napoletano, o chiamate terroni di merda. Se quello si offende tu gli dici no, ma la mia è una satira provocatoria. Po 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 po. È impossibile, ma passiamo un po' è impossibile, sappiamo tutti che collega napoletano è al bar e non è in ufficio, no? Non so se si è capito ragazzi, ma non sono simpatico, non mi piacciono le persone simpatiche perché nel migliore dei casi sono ingenui, ma nella stragrande maggioranza bugiardi. Lo psicologo dice che sono troppo fumantino, ma quello è un coglione, prima o poi gli spacco i denti, guarda. Bello di fare il comico è questo, eh? Io esco in scena, vi rovescio addosso, merda veleno, voi tutti contenti, evviva, eh, Giorgio Magri. Sono come Greta Thunberg, solo che io un po' di tette ce l'ho, dai. Una prima scherza. Greta Thunberg, secondo me, è la spiegazione illustrata della sinistra liberale petalosa, vero? Spocchiosa, autistica e raccomandata. Nessuno avrebbe mai potuto rappresentarla meglio, eh? No, ma poi dico, perché poi, scusate, le parole sono importanti. Sinistra liberale? Non era uno simoro? È come dire femminismo argomentato e circostanziato. Sono concetti che si annullano a vicenda, no? In Messico c'è un partito che si chiama Partito Rivoluzionario Istituzionale. Ecco, una roba del genere, pensavo. No, anche le femministe non vorrei avere offeso. Sapete, c'è questa cosa, se ve lo dico subito, purtroppo c'è questo problema, che le battute sessiste, le battute misogene, si scrivono da sole. Veramente, non è colpa mia. Oggi, per esempio, ero a Milano, ho preso la metro senza conducente, ho pensato, beh, poteva andare peggio, poteva esserci una donna. Se avessi un euro per ogni battuta sessista o razzista che scrivo, adesso potrei permettermi puttane bianche. No, che tanto, guarda. Se anche per sbaglio, mi insegno un trucco, se anche per sbaglio una femminazie dovesse riuscire un domani a tirare in piedi qualche cosa che per qualche ragione potrebbe anche lontanamente ricordare un argomento valido? Vi insegno un trucco? Basta risponderle? Gne, 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 gne. Mi rendo conto che queste sono tematiche difficili da affrontare per un comico perché le femminazie sono stupide come la merda. Però adesso facciamo finta che stia parlando seriamente per un attimo. Io adesso non è che voglio dire che la maggior parte delle loro istanze non siano anche più che sacrosante. Quello che voglio capire è com'è che quando veniamo messi davanti a dei fatti, sgangherati, sbagliati, quando non deliberatamente inventati, che siano, sappiamo rispondere sempre e solo con slogan di merda. Ritorica garibaldina e di vieti. Fate come me, quando quelli dicono che gli immigrati prendono 35 euro al giorno, io gli rispondo ma stai zitto ricchione. Questi rimangono... Non capiscono da che parte arrivano gli spari. Se non possono affibbiarti unismo, il cervello gli va in conflitto, hai capito? Viviamo in un momento storico, ragazzi, in cui i terroni votano Lega. Non è che possiamo centrare la strategia sul buonsenso, ci vuole un po' di fantasia. Qua ci ha portato la sinistra italiana, ma vi rendete conto di questo? Ma voi non lo sapete, io sono un vecchio di merda, sapete? Mi ricordo quando erano gli anni 80. E mia nonna ci faceva questi discorsi del tipo, ah la tua generazione è fortunata. Noi ai nostri tempi lavoravamo 14 ore al giorno senza diritti. Noi. Che giustamente se tua nonna te lo dicessi adesso, ci diresti, spam, vecchia puttana, 4.000 di pensione, ti prendi, hai fatto un cazzo alle poste per 40 anni. Puttana! Vieni qua, stronza di merda, che mi serve l'appartamento! Prendi, la imbavagli, la zavorri, e poi la butti in mare insieme alla baronessa Filiguelli de Bonchamp. Qui lo seguirono nell'ordine, nonna con casa di proprietà, sindaco con fascia tricolore, ministro della marina mercantile, 102enne baronessa Filiguelli de Bonchamp, mascotta vita, le so tutte, ragazzi. No, scherzavo, se muore la nonna perdi anche la pensione. L'ideale sarebbe sedia a rotelle fino a 106 anni. Quindi becchi pensione e assegno di accompagnamento. Ragazzi, parliamoci chiaro. Se io alla mia età sono qua a prendere per il culo Greta Thunberg, è anche perché la mia povera nonna non aveva casa di proprietà. E a tutti quelli e soprattutto quelle che si stanno chiedendo a me ma allora tu dove eri quando avevi 16 anni? In piazza, a manifestare per l'ambiente. Pensa un po'. Come molti di voi, penso, no? Solo che i miei genitori facevano gli impiegati, quindi. Invece di andare da Fazio oppure all'ONU con la barca a vela dovevamo andare in piazza Cairoli col tram. C'è di buono che in manifestazione c'è sempre una vagonata di fregna. Il pelo sui muri, la moquette di pelo, astrascico andava, astrascico, cioè raschiando il fondale. Astrascico, raschiando il fondale significa. Io avevo perfezionato una tecnica mutuata dai predatori carnivori. Cioè puntare gli esemplari più deboli o emarginati dal branco. Scarsa autostima, macchinetta per i denti, assenza di figura paterna, e tutte quelle che hanno un qualche handicap, che ne so, meridionali. Io non so cosa spinga a certe ragazzine a darla via tipo frisbee per fare un dispetto al padre, ma credo che questo modello genitoriale vada premiato. Io ho una cugina che fa la psicologa, una volta mi ha confidato che stava lavorando in una comunità per ragazze noressiche, subito ho drizzato le orecchie. Interessante. Sarà pieno di giovani sbarbine, vulnerabili, sicuramente non grasse. Colorito femminista in sala rosso, rosso pompeiano, arancio a ragosta, viola ad obbo funebre, blu tenebra. Una volta mentre facevo questa battuta ho visto uno calmare la tipa abbracciandola, come per dire tranquilla dopo andiamo a bere la tisana di quinoa, hamburger di fagioli, non ti preoccupare. Voi non avete idea delle scombinate che ho beccato in manifestazione. Io una volta ho beccato una così stordita che per broccolarla le ho fatto credere che avevamo già scopato, lei non se lo ricordava. Siccome le sembrava plausibile, per darvi un'idea del personaggio. No, ve lo giuro, non posso averla inventata. La tipa aveva un cane che si chiamava Dio. Non posso averla inventata. Sapete però, una cosa seria la voglio dire, secondo me i cortei, le manifestazioni, hanno un po' lo stesso problemino dei comizi. Sono perfettamente inutili. che non fanno cambiare idea a nessuno. Rendono la causa impopolare a chi sta cercando di andare al supermercato in macchina. L'unico obiettivo che raggiungono è rimpinguare l'ego degli organizzatori, l'autostima degli oratori. Non è protesta, quello è il rituale di corteggiamento dei mammiferi. Dovrebbero mettere la musichetta di Quark, il furgone del Leoncavallo esce fuori Alberto Angela. La danza rituale del giovane metropolitano prevede l'intonazione di cori gutturali. La disoccupazione! Esattamente come Greta Thunberg, indipendentemente dal messaggio veicolato, non è propaganda efficace. Non è propaganda efficace. Perché? Perché se sei ambientalista ti radicalizzi, ma se sei scettico aumenta la tua diffidenza invece di aiutare la causa esacerba il conflitto. Se fosse fatta i cazzi suoi sarebbe stato meglio per tutti. No, vi faccio un esempio che piace tanto a voi fino a millennia. A voi giovani, scusate. A voi giovani. Barack Obama? Avete presente Barack Obama? Il criminale di guerra? L'ex presidente. L'ex presidente degli Stati Uniti. Ecco, provate a pensare cosa avrebbe combinato un Barack Obama se fosse stato uno stronzetto arrogante figlio di un pezzo grosso. Avrebbe avuto la stessa credibilità di Bombolo, no? Zuzzo, sto figlio da una mignota, ve lo ricordate? A che mi è? Arriva a sta vizio? Sì! No, serio, se Obama fosse stato uno stronzetto arrogante raccomandato, ma scusa, sarebbe stato Hillary Clinton? No, scherzavo. La Clinton ha perso perché è una donna e le donne non combinano mai un cazzo. Dai, basta prendere per il culo le femministe che loro si offendono sempre. Parliamo di napoletani. Allora, ricapitolando, a Napoli se vanno a entrare col motorino è colpa di Garibaldi, no? È regolare, sappiamo tutti, siamo tutti d'accordo. Sapete, quando vado a Napoli io broccolo spesso e volentieri perché c'è molto disagio, molta assenza di figura paterna, poca anoressia, vero? Poi tutto sud, vero? Una volta un mio amico calabrese mi ha chiamato tutto contento per dirmi che alla festa del paese avevano scannato un maiale e io di sottofondo sentivo iiii gli ho detto mi sembra che lo state scannando adesso il maiale e gli ho detto no, quello è l'altro maiale che piange perché gli abbiamo ci soffrato. sì, al sud c'hanno ancora queste usanze barbare, arcaiche e vetuste, è vero? Come, 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 come si chiama, dai, quella roba buffissima il matrimonio allucinante e tipe che si aspettano qualcosa da te solo perché tu glielo hai fatto credere no, questa l'ho infilata perché le femministe stavano sbollentando allora è anche giusto zicchetezacchete zicchetezacchete vedi, è quella la differenza secondo me è umorismo quando ridono tutti e satira quando ridono tutti tranne uno che poi vabbè anche come funziona il bullismo però insomma tecnicamente parlando io sono un sociopatico voi ridete perché pensavate che stessi scherzando faccio il tifo per il meteorite dei maya che hai capito battuta razzista sugli indios battuta razzista sugli indios va bene allora in centro sud america gli indios vengono soprannominati cara de chancla che vuol dire faccia da infradito che in effetti con il naso adunco gli zigomi alti sembrano proprio è vero facci caso questa è così vecchia che l'ho copiata a caratteri cuneiformi pensa che bordello al tempo degli ittiti lavorare in tribunale e fare lo stenografo va di più ad agio per pietà una volta mentre facevo sta battuta ho scassato il microfono non me ne frega un cazzo perché di mestiere faccio il tecnico luce quindi i fonici devono bruciare tra le fiamme dell'inferno no scherzavo non ho niente contro gli audiolesi poverini loro hanno solo sbagliato percorso professionale a me state sul cazzo tutti quanti che ci vuoi fare io sono fatto così secondo me se tu finissi sotto un autobus il mondo perderebbe un grande parabrezza fatto così io la mattina mi sveglio mi guardo allo specchio sento la voce dire era la mummia del faraone meno tempo e penso tu non sei sociopatico gli altri sono merdacce sono gli amici che non hanno te è così me la cavo sempre con il black humor con il cinismo con la bastardaggine una volta per esempio vi faccio un esempio ho visto un'ipotetica mappa dell'Italia dopo lo scioglimento dei ghiacci polari e c'era Milano al mare Roma e Napoli sott'acqua tutti d'accordo? nel senso sempre me la cavo sempre con la bastardaggine vi faccio un altro esempio io ho una sorella che abita all'estero da quando nel giro di un anno sono mancati i miei genitori i nostri genitori tutte le volte che la chiamo dall'Italia quando risponde faccio passare qualche secondo e poi le dico paura no veramente mia sorella abita in Spagna fa l'immunologa lei come Burioni la scienziata sai che ogni genio ha un fratello scemo no? la mia sorella scema è lei pensa che supplizio davvero familiare come me che una volta tipo avevo una ventina d'anni mia mamma mi ha chiesto mi ha detto guarda che sei ancora in tempo a prendere la maturità io le ho risposto dai va bene se vado in galera la prendo promesso per intenderci il mio titolo di studio è diploma di scuola materna un'altra volta ero in giro con la macchina di mio padre sono passato col rosso bam dentro una macchina dei carabinieri loro erano contentissimi non mi hanno fatto l'alcol test non mi hanno chiesto ma hanno fatto una multina da quattro soldi e mi ha detto ma prima che salta fuori un'altra macchina facciamo mezza giornata ma Gris ci hai salvato ce la fai a passare anche domani poi un bel giorno avevo una ventina d'anni era sempre intorno al 95 è venuto a trovarmi sto mio amico mi ha detto dai c'ho bisogno di te per un lavoro quindi niente ho preparato il bilancino la stagnola no 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 fermo fermo cosa hai capito un lavoro vero un lavoro legale quindi niente avevo vent'anni e mi sono trovato a fare i montaggi per i palchi dei concerti facevo il facchinaggio la local crew primo giorno di lavoro ho visto l'andazzo e la fauna tipo cantina di Caracas sono andato dal capo che era sto personaggio con i dread e i tatuaggi con discrezione senza dare nell'occhio per sondare un po' il terreno e gli ho detto senti ma è un problema se faccio una canna e lui mi ha risposto eh ho un problema sì perché siamo i quindici se riesci a farne due mi copri la squadra ho pensato avevi la mia curiosità adesso è la mia attenzione comunque per intenderci il mio primo giorno di lavoro è stato al concerto di Carlo Santana quindi niente potete puparmi la fava tutti quanti ci tenevo a tenere poi chiaramente con gli anni ho imparato anche che fumare le canne sul lavoro è un atteggiamento irresponsabile naturalmente sono passato la coca quella è la mia idea di mettere la testa a posto passare da spacciatore a consumatore no scherzavo spacciavo anche a lavoro non è vero poi sai cosa ho iniziato subito a fare il tecnico lavoravo per una compagnia teatrale facevamo spettacoli per le scuole superiori in lingua in tutta Italia io avevo 23 anni quindi sbarbine disagiate meridionali a 4 alla volta finché non esce un numero primo con loro ho lavorato per una quindicina d'anni però non consecutivi per due anni ho lavorato sulle navi da crociera sempre come tecnico del teatro so cosa state pensando sì ho lavorato anche per quella compagnia che inizia con la C sì ho conosciuto quel comandante che inizia con la S no non ho partecipato all'escursione snorkeling all'isola del Giglio mi spiace l'ha fatta un mio amico quella io subito l'ho chiamato tutto preoccupato gli ho detto come va mi ha detto che a bordo da voi c'è del sushi freschissimo che fai di bello acquagim palassoterapia inspiegabilmente si è incazzato mi ha detto Giorgio al Giglio dovresti andarci tu che almeno più danno di quello che c'è non puoi fare messaggio ricevuto grazie perché poi sapete appunto io venivo dall'ambiente dei concerti del teatro delle sfilate decisamente più rock and roll delle navi da crociera che invece è mega ditta di Fantozia lì ci sono tutti quanti proprio Fantozzi Filini Calboni Silvani il mega direttore naturale ereditario tutti quanti ci sono fauna passeggeri guarda non potete pensate che a bordo era pieno di vecchie di carampane che pagavano i membri dell'equipaggio per portarsene in stanza alluscinante non sapevo più come spenderli tutti quei soldi no no scherzavo ho speso tutto in droga però sapete io in teoria con le passeggeri non ci potevo andare però vi insegno un trucco sulle navi le regole per l'equipaggio funzionano in questa maniera due punti aperte virgolette le regole ci sono e vanno rispettate se sei nero chiuse virgolette facile facile chiaramente quelli dell'est contano come sbiancati con la scolorina non te lo sto neanche fauna passeggeri allora ai Caraibi per esempio imbarcavamo solo americani vecchissimi pensionati sai quelli con il triciclo elettrico la camicia comprata nel reparto formigoni troppo ridere ogni crociera ne morivano un paio ogni crociera patta pan giù per terra moglie che piange sbarca il morto passa tutta la notte così perché devi recuperare le due ore del morto un'altra volta abbiamo imbarcato un charter tantadantan 600 ebrei ortodossi tantadantan sei quelli con le treccioline tipo pipi calze lunghe dopo la chemio hai presente io li chiamo gli ebrei zizi top è vero due con la barba uno senza a dimostrazione che le crociere costano poco bellissimo aveva fatto il mare del nord del baltico facevamo scalo ad amsterdam mi sembra dei ricordi però mi ricordo facevamo sai estonia lettonia lituania polonia russia tutti quei paesi che poi lì nessuno parlava inglese quindi sai mi sono dovuto fare insegnare due cosine quello che serve come stai come ti chiami cosa fai con 20 dollari proprio il necessario abbiamo fatto il giro dei caraibi 2006 2007 mi sembra che fosse fighissimo anche lì giamaica costa rica messico colombia ottimo rapporto qualità prezzo devo dire mi ha detto un amico no poi era tanti anni fa appunto era 2006 2007 mi ricordo che in colombia siamo arrivati metti il naso fuori dalla nave va transenne esercito polizia elicotteri televisione giornalistico che succede andiamo a chiedere informazioni ci hanno spiegato no oggi c'è casino perché deve venire Maradona per andare in clinica a disintossicarsi a Cartagena che io gli ho risposto cosa può andare storto abbiamo fatto il giro del Mediterraneo è lungo e largo veramente abbiamo visto la Libia di Gheddafi l'Egitto di Mubarak la Grecia della Merkel ci siamo presi i kebab in Turchia il couscous in Marocco le piatto le in Croazia la soddisfazione di uscire a Napoli con gli amici stranieri sai e fare assaggiare loro qualche specialità locale tipo l'eroina anche a Palermo i passeggeri americani erano un po' delusi si aspettavano qualcosa di diverso poi per fortuna c'è stata una sparatoria lo stupore dei colleghi africani che sbarcavano in Italia per la prima volta e chiedevano tutto a me no? sai tipo Giorgio perché qui da voi non portano via rifiuti ma perché da voi nel Burkina Faso si passa camion tutti i giorni vedi le navi sono una grande scuola di tolleranza perché a bordo ci sono persone di tutto il mondo tantissimi stranieri gli ufficiali di coperta per esempio tutti napoletani i cugini tra di loro sai come fanno quando poi sono sbarcato è stato veramente emozionante finalmente sentire parlare italiano infatti ancora adesso quando vedo Gomorra c'ho i flashback mi raggomitolo in un angolo inizio a tremare stai senza banzieri no! ancora quelle voci vedo gli elicotteri il Vietnam che poi sai cosa io prendo per i culo i napoletani a bordo ci sono anche i genovesi che anche quelli non scherzano cazzo però vedi succede questa cosa facci cazzo vai dal napoletano lo chiami Mariolo quello si incazza vai dal palermitano lo chiami mafioso quello si incazza vai dal genovese lo chiami taccagno quello ti dice Belin ma certo che sono taccagno Belin le palanche nella rumenta Belin aziana Belin Belin è una parola genovese credo voglia dire virgola non c'è gusto così io mi diverto di più con i fan di Pino Daniele che poi mi scrivono in privato a Cire de Lota om e mert scritto così c'è tutta un'ortografia che voi non sapete om apostrofo e mert a me che avevo l'unica colpa di aver scritto su Pino Daniele una innocente battuta a morto caldo per ricordare il grande cantante Pino Daniele verrà celebrato un minuto di scippi e borseggi innocente sobria e rispettosa battuta a morto caldo sono la mia specialità le battute a morto caldo due anni fa ho scritto questa senti pronto Raffaella? pronto? c'è nessuno? e ti so che fa strano vedere un comico che piglia tutti per il culo vero? uno che fa domande senza dare risposte vero? perché poi in questo guardate mi ci butto dentro anch'io noi persone di sinistra abbiamo un po' questa brutta cosa che tutte le sere dobbiamo andare al solito a circoletto Arci vero? a vedere il solito cantautore la solita compagnia che ci dice che cosa? che Berlusconi va puttane che la memoria è importante che i libri sono più istruttivi della tv che qui una volta era tutta campagna che Venezia è bella ma non ci vivrei poi di solito verso fine serata arriva una coi capelli verdi dice dov'è il clitoride e tutte le femminazze in sala bravo bravo è vero come i bambini che guardano Kung Fu Panda per la quintilionesima volta per sentirsi rassicurati non sono qua per rassicurarvi sono qua per dirvi che siamo delle merdacce che tu dirai Giorgio ma come lo risolviamo questo problema dell'intolleranza e non lo so faccio il buffone di mestiere pensa un po' devo mettere a risolvere i problemi tipo frate indovino ma pensa a te ma voi vi immaginate cosa ne sarebbe del mondo se a governare gli stati ci fossero i comici attenzione cazzo questa è invecchiata malino è invecchiata malino perché poi succede questa cosa fateci caso noi abbiamo questo brutto vizio di concentrare il nostro astio su una singola categoria è un errore fate come me io odio tutti i francesi i francesi i francesi i francesi i francesi i francesi la corsica sud del belgio nord della svizzera parte della valle d'aosta monte carlo no ci teniamo la parte cool dei francesi in un recinto sai tipo la piccola rocca incantata senza il bidet sai perché perché poi appunto succede questa cosa qua fateci caso fai le battute sui neri razzista bastardo fai le battute sui gay omofobico bastardo fai le battute sui francesi tutti contenti ma perché perché è così appagante quale sentimento ci fa empatizzare con i bonobo con i molisani ma non con i francesi sai mi rendo conto sai quando parli con un francese c'è sempre quella cosa no che pensi stamattina sei andato in bagno dopo non però non so se lo sapete quello che per noi vale per i francesi nel resto del mondo vale per gli italiani sappiamo tutti come sono questi stereotipi vero? i greci sono poveri gli slavi sono divisi i tedeschi sono ubriaconi i francesi sono arroganti gli spagnoli sono pigri i portoghesi sono decaduti i magrebini sono delinquentelli gli italiani tutte queste cose dicono tutti che siamo famosi nel mondo solo per la pizza e la mafia non è vero la verità è che la pizza è famosa nel mondo perché se ti piace lo dici ai tuoi amici se non ti piace faresti meglio a farti i cazzi tuoi il mio è un consiglio d'amico adesso vi devo chiedere scusa perché avevo preparato una cartella con tutte le battute sugli italiani purtroppo l'autogrill mi sono entrato in macchina me l'hanno rubata però vedete vedete com'è prendere prendere per il culo gli italiani o i francesi è una di quelle scorrettezze socialmente accettate uno sbaglio lecito un po' come rubare un rigore alla Juventus non è un furto un esproprio ti stai riprendendo quello che ti è stato sottratto una volta ho letto sul giornale che dei tifosi juventini avevano svaliggiato un autogrill mi sono detto ma sarà la forza dell'abitudine cosa gli vuoi dire poverino noi italiani siamo il cugino stupido d'Europa sai che in ogni famiglia c'è un cugino che va in Sud America e si fa le canne se la vostra non c'è siete voi avete presente noi siamo come il gatto di casa possiamo fare il cazzo che ci pare perché siamo buffi e pelosi è vero? che adesso non è che voglio dire che ogni singolo livello della società italiana sia scientificamente studiato in maniera da premiare sistematicamente la mediocrità ai danni del talento però sì esattamente quello che voglio dire sì facile ridere e scherzare degli stereotipi che riguardano gli altri quando toccano la nostra parrocchia che drizziamo tutte le orecchie io me ne accorgo quando sono all'estero vengo discriminato come italiano mi incazzo perché è un atteggiamento razzista ma soprattutto perché sono vittima di un pregiudizio per colpa dei terroni ma scusami sti cazzo di americani lo devono capire che tutti sti stereotipi come la pizza col forno a legna sono tipici del sud al nord abbiamo l'elettricità se tu vuoi fare le battute sugli italiani mafiosi fai pure poi io non mi offendo io certi amici miei potrebbero offendersi è un peccato tutti abbiamo una famiglia a casa ammetti che succede qualcosa di brutto dico per dire una volta un mio amico italo-americano mi ha detto Giorgio i tuoi baffi sono la cosa più italiana che abbia mai visto io gli ho risposto dovresti vedere il mio bagagliaio e sempre pensare male su tutto che una volta è sempre questo mio amico qua è tornato dalla sessione di footing e me lo ricordo tutto quel fiatone sudatissimo ma cazzo Giorgio corso per 45 minuti io subito gli ho chiesto ma che cazzo avevi rubato ma perché ma perché perché poi sai che cosa lui è italo-americano di origine napoletana una volta era in panico perché aveva chiuso le chiavi dentro la macchina gli ho detto ma scusa un attimo ma tu sei napoletano non sai che faccia di aprire le macchine ma che napoletano sei ma io pensavo che fosse istintivo che fosse genetico sai come i cuccioli di tartaruga che appena sgusciati vanno verso così come i cuccioli di canguro appena nati si arrampicano nel marsupio materno io pensavo che anche i cuccioli di terrone si arrampicassero sulle portiere per spadinarle vedi il trucco è quello se tu colpisci tutte le minoranze raggiungi la totalità del campione non è più razzismo diventa misantropia bella fortuna che non ho figli direte voi io sapete ho un nipotino a dieci anni tutto carino piccolino con gli occhioni una volta è venuto da me e mi ha detto ma tu perché non hai figli e chiaramente gli ho risposto fatti cazzi tu hai finito un uccetto di merda e me ne sono andato però mentre me ne andavo pensavo sì così per il bambino è segnante ma non abbastanza adesso torno e gli spiego veramente perché non ho figli sono tornato chiaramente ho aspettato che smettesse di fregnare come una femminuccia del cazzo vieni che ti spiego bene dai stiamo d'accordo che il genere umano è una grande massa tumorale no? perfetto se io metto al mondo un bambino al giorno d'oggi sto aggiungendo una cellula a questa grande metastasi che è l'umanità con l'aggravante che mettere al mondo un bambino al giorno d'oggi equivale a una pena detentiva di anni 20 in quanto per 20 anni ti puoi bellamente scordare soldi extra tempo libero scopare tutto chiaro? perfetto 20 anni quindi rimaniamo fino a qua 20 anni di galera adesso ascolta bene se invece di mettere al mondo un bel bambino biondo io ne abbatto uno con il badile e poi confesso posso giocarmi la carta pretere intenzionale e cavarmela con 10 mi sono documentato sconti di pena buona condotta 5-6 anni sono fuori tutto chiaro piccola merdina no un'altra volta mi ha chiesto ma tu che lavoro fai? lavoro nel campo macellazione insaccamento bambini hai mangiato il secondo dai che poi c'è la torta sbrisolona su ai miei tempi c'era molto meno attenzione a non turbare la serenità dei pargoli è vero io ho questi ricordi di mia madre che minacciava di vendermi agli zingari mentre con una mano caricava mia sorella nel bagagliaio per i piedi e con l'altra si accendeva un N80 le ciabatte da piscina in canottiera come t'ho fatto ti disfo questi sono gli scintillanti anni 80 io mi ricordo denti cariati ascelle pelose eroina basta scintillanti anni 80 credo che sia per questi traumi infantili che la nostra generazione ha fatto poi cose raccapriccianti come la macarena o il concerto del primo maggio che insieme a Greta Thunberg è un'altra spiegazione illustrata del fallimento della sinistra petalosa ma soprattutto come t'ho fatto ti disfo nel senso ti strangolo con la fregna come t'ho fatto ha detto come t'ho fatto sai noi pensiamo sempre se potessimo tornare indietro negli anni diremmo loro che questo approccio con i bambini è diseducativo ma la verità è che se loro avessero potuto viaggiare nel presente adesso ci starebbero dicendo così i vostri figli crescono fino a... e noi gli diremmo ma non si usa questo linguaggio omofobico e poco inclusivo e loro ci direbbero abbiamo capito che nel futuro vi piace il cazzo però nel frattempo così i vostri figli anche serio dai serio sta cosa che adesso io sono omofobico perché chiamo i franzioni mi sembra di aver contestualizzato poi scusa non avete sentito cosa ha detto Pio Amedeo hanno detto che si può se lo dice Pio Amedeo ognuno ha il suo insulto di riferimento poi tutti quanti facciamo parte di una minoranza anche io ho il mio insulto di riferimento al sud ci chiamano polentone per esempio perché da noi invece si mangia non è che puoi stare a sindacare su ogni cosa la verità è che se tu ti incazzi per le battute sugli italiani furbastri non è perché ti senti chiamato in causa come italiano ma smascherato come furbastro un vero paesano non si incazza un vero italiano prima si fa una risata poi con calma ti fa trovare una testa di cavallo nel letto le tradizioni sono importanti una volta dopo lo spettacolo un tipo è venuto da me tutto scocciato tutto impettito io questo tuo accadimento nei confronti di noi meridionali veramente non lo capisco io gli ho risposto certo perché hai fatto le scuole al sud è regolare che non capisci un cazzo ma scusa cosa non ti è chiaro nella battuta il fatto che Salvini raccolga consensi al sud dimostra che i terroni sono stupidi chiaro che il bersaglio della battuta è lo stupido e non il terrone mi sembra abbastanza lampante è una parodia un gioco di ruolo hai presente quando sei a letto con una le tiri uno sberlone sulla topa e la chiami puttana questo è lo spirito con cui vi chiamo terroni perché vi voglio bene come un papà questa era borderline questa era borderline mi rendo conto no un'altra volta invece dopo lo spettacolo una tipa è venuta da me offesa perché non ho fatto battute su loro albanesi veramente sono rimasto male la tipa era pure un bel quarto di bue siccome era col fratello le ho chiesto se magari fosse in vendita non lo so quante pecore ci vogliono quante denti d'oro mi ha detto no noi usiamo i lingotti di rame ah paese che vai cazzo usanza che trovi sapete sapete la mia età si riscopre il piacere della misantropia la gioia della vecchiaia molesta hai presente chiudi che c'è corrente abbassa il volume quando arriviamo sono io altro giorno era la fermata dell'autobus c'era uno sbarbato che continuava a picchiettare sulla panchina con gli scharponi faceva rumore c'era anche altra gente questo andava avanti ti timpa pam pepepepe dopo un po' gli ho detto oh non ti sei rotto i coglioni di far rumore perché noi si pensa un po' tutti a me capitano gli sbarionati un'altra volta ero in giro per la strada un barbone ubriaco mi ha fatto il saluto militare io sono passato gli ho detto comodo comodo simpaticissimo un signore sulla settantina poi mi ha preso a braccietto e mi ha detto me lo offre un bianchino che sono orfano ma come orfano personalmente il mio grado di menefreghismo e strafottenza ha raggiunto quota Paolo Villaggio sei tipo tunica berbera stia zitta chi era incoglionita lo consiglio a tutti veramente una volta per esempio durante lo spettacolo una tipa ha cercato di interrompere per dirsi offesa di alcune battute secondo lei misogine non capisco con lei sono stato abbastanza sbrigativo ero una sbarbina sei maggiorenne sì ma stai zitta non rompere perdo tempo con le vecchie vai a guardare il tg4 non rompere i coglioni no però adesso siamo anche quasi in chiusura voi avrete capito io non sono uno di quei comici che cerca l'applauso però una cosa ve la voglio chiedere uno sforzo tutti quanti lo possiamo fare smettiamola di chiamarle femminazzi per favore i nazisti argomentavano in maniera opinabile i loro argomenti erano discutibili posso capire chi non è da lo sforzo di argomentare lo facevano poi succede questa cosa che io odio per cui appunto se sei terrone puoi fare battute sui terroni quindi se sei femminista sui cessi alla turca insomma perché 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 io posso fare le battute sui milanesi tu sui gay perché ti presenti con quella pettinatura e pensavi di farla franca col ciuffo ditemi cosa c'è di non razzista è una battuta sugli italiani mafiosi detta da me ditemelo se non volete finire in un pilone dell'autostrada poi ci sono i miei preferiti quelli che hanno un amico è vero? un cognato ah mi sento autorizzato a fare battute sugli ebrei perché mio cugino fa l'usuraio che cazzo vuol dire scusa? per interposta persona? quindi secondo te io posso fare battute sui tunisini col cazzo di 30 centimetri perché sono stato in prigione? non è così che funziona l'umorismo scherzavo erano massimo 26-27 ma poi anche lì vedi puoi o non puoi ma certo che puoi c'è libertà di parola stai qualificando a te stesso però non gli ebrei scusa un attimo quando io entro in scena inizio un monologo che ne so dicendo che le donne sono tutte puttane sto chiaramente recitando la parte di uno stupido che dice grandissime ovvietà nella vita privata nella vita privata io rispetto tutti quanti vi faccio un esempio non sono credente però se vado in chiesa mi tolgo il cappello se vado alla moschea mi tolgo le scarpe se vado alla sinagoga gli lascio due soldi rispetto le tradizioni assolutamente ah dai basta battute sugli ebrei che vorrei lavorare ancora di questi tempi basta battute sugli ebrei dai vabbè faccio l'ultima sapete come sono i carciofi alla giudea? no niente carciofi normalissimi solo coltivati sulla terra di qualcun altro no però vedi non c'è niente di male a lanciare dei messaggi non c'è niente di male a lanciare degli slogan quello che voglio dire io se dobbiamo farlo facciamo le maniere intelligente efficace ironica simpatica ti faccio un esempio no alla violenza sulle donne salvo richieste non è no alla violenza senza sé e senza male ci sono dei paletti all'interno dei quali condanniamo gli omosessuali all'inferno del matrimonio hai voluto la bicicletta adesso pedali firmato avvocati civilisti che sono quelli che hanno capito tutto perché già ci sono le cause di affidamento per il chihuahua con il papillon che si chiama Pavarotti grasso e bello firmato nordafricani oh ragazzi serio pensiamoci tutti quanti se non ci fossero i Maruego ma voi avete idea quante quarantenne cicciottelle con il ciuffo viola sarebbero sguinzagliate per la strada libera di fare i tarocchi accendere gli incensi portare la papina ai gatti randaggi i Maruegos fanno il lavoro sporco che gli italiani non vogliono fare più come andare con le tardone tra cagnotte un applauso per i Maruego comunque ragazze ragazze lo so che mi odiate per le mie battute misogine se esiste però se può farvi star meglio ci tengo che voi sappiate che io tra le altre cose mangio come un maiale e non ingrasso mai trolololololololololo la verità cari miei è che quando ci esprimiamo non lo facciamo mai per ingaggiare un dibattito ma sempre solo per manifestare la nostra appartenenza a un gruppo sociale e non ridete più adesso e quando ce lo smarmellano in faccia ci sentiamo spogliati e mutande vero infatti lei sta pensando me lo dicevi prima che mettevo il completino corredato giustamente scherzavo e non porta le mutande la verità è che quando ingaggiamo un dibattito non lo facciamo mai per far cambiare idea agli altri ma sempre e solo per far sapere agli uni quanto puro il nostro spirito quanto lungo il nostro cazzo ovvero l'italia è una repubblica fondata sul cazzo piccolo pensa che meraviglia se tutti avessero diritto a un tarello come un luccio così questo è il comunismo del domani proletari di tutto il mondo uscitelo pata prang è per quello che i cinesi sono così solidali tra di loro ce l'hanno tutti piccolo però basta battute sui cinesi basta faccio l'ultima poi basta senti che pranzetto che mi sono preparato oggi riso basmati zenzero verdure al vapore gamberetti salsa di soia adesso so riparare i telefoni è un casino di battute sui cinesi ma non le faccio mai perché sono tutti uguali la verità cari miei che questi atteggiamenti sono figli del nostro annoso complesso di superiorità dell'intimissima convenzione che l'appartenenza al giusto schieramento qualunque esso sia sia l'antidoto all'inettitudine alla mediocrità alla disonestà all'ignoranza stendal diceva gli italiani non hanno opinioni ma solo fazioni che io quando l'ho letto pensato ma vaffanculo francese di merda ma anche fra comici fateci caso di base si dividono in due i comici no il buffone il guru è vero il buffone fa ridere le famiglie bambini al centro commerciale il guru presta le opinioni al pubblico al circoletto arci l'idea che uno possa sparare cazzate raffica non è contemplata perché questi sono lì che si aspettano il sermone capito l'omelia alcuni artisti lo fanno solo per incrementare il proprio ego la propria autostima io no io quando ho iniziato a fare il comico la mia autostima era già a livello massimo quindi mi son detto qui l'unica cosa che posso fare è distruggere l'autostima del pubblico molto semplicemente questo è insult comedy quando si approccia il bullismo con metodo scientifico che tu dirai ma io sono venuto a farmi insultare sì e quindi sei un coglione è un cerchio che si chiude ora prima di salutarvi due cosine ve le devo dire io come voi sapete sono milanese noi milanesi non possiamo essere razzisti perché da qualsiasi parte del mondo tu venga per noi sei solo un bifolco di fuori non abbiamo mai discriminato nessuno assolutamente e poi il razzismo è stupido perché comunque di rifo di raffa facciamo tutti parte di una minoranza facciamo tutti parte anche io faccio parte di una minoranza sono intelligente tutti quanti facciamo parte è triste dover fare il disclaimer alla fine ma è chiaro che il bersaglio dei miei strali è sempre lo stereotipo è mai la persona mi sembra abbastanza lampante l'altra sera in prima fila c'era un ragazzo di colore si è piegato in quattro dalle risate veramente tra l'altro nero brasiliano quindi probabilmente anche ricchi io sono fatto così prendere o lasciare se non ti piacciono le battute sulla sedia di rotelle ti alzi e te ne vai io sono giorgio magri spero di avermi fatto fare quattro risate grazie